Ciao, sono Antonio Zuccaro, ho 29 anni, vengo da Napoli e sono qui per condividere con voi un po' della mia magia. Un po' di tempo fa ero su internet e leggevo un articolo su una tecnica da baro nota come shuffle tracking. Che cos'è? Durante l'esecuzione di uno o più miscogli, il baro riesce a seguire gli spostamenti di alcune carte vantaggiose e in seguito a sfruttare questa conoscenza a suo vantaggio. Per esempio, sapere che il ready pick è la quindicesima carta, il sette di fiori è la decima e così via. Anche io oggi voglio darvi un esempio di shuffle tracking, ma lo farò in una maniera un po' insolita, perché miscoglierò le carte in questo modo, alcune carte a faccia in su e alcune carte a faccia in giù. Chiaramente capirete che adesso diventa molto più difficile per riuscire a seguire gli spostamenti delle carte vantaggiose. Questo perché chiaramente dovrò seguire le carte sia a faccia in su che a faccia in giù durante il corso di tutti i vari miscogli e i vari tagli. Anche perché se ci... Non dovrei farlo, ma in via del tutto eccezionale oggi faremo così. Darò un'ulteriore mescolata alle carte, proprio perché per dimostrare che siamo d'accordo, qui si bara, ma si bara onestamente. Perfetto. La domanda a questo punto è Cosa si può fare con un mazzo di carte in questo stato? Carte a faccia in su, mescolate con carte a faccia in giù, cuori, quadri, picche e fiori. Chiaramente come in ogni partita che si rispetti, dopo aver fatto mescolare le carte, bisogna anche farle tagliare. Chiaramente in questo caso si può trovare una carta a faccia in su oppure una carta a faccia in giù. Adesso però, amici, arriviamo alla parte più interessante. Perché lo shuffle tracking è difficile, non sempre riesce. Però, mettiamo caso che io fossi veramente riuscito a seguire gli spostamenti di alcune carte buone durante tutti i tagli e quei miscogli. Se non sbaglio, a questo punto la prima carta buona, la prima carta a faccia, dovrebbe essere esattamente la ventesima della faccia. Quindi se io riuscissi a tagliare esattamente la ventesima carta, sì, la ventesima, dovremmo trovare un asso. Esattamente l'asso di cuori. Ma che coincidenza! Se riuscissi a tagliare leggermente più in basso, invece dovremmo trovare il secondo asso, l'asso di fiori. E chiaramente tenete presente che queste carte sono state mescolate a faccia in su e a faccia in giù fin dall'inizio. Quindi fino all'ultimo istante non si è mai al 100% sicuri che si sta per tagliare ad una delle carte che si sta cercando di seguire. Per esempio in questo caso qui abbiamo il 3 di picche, ma abbiamo capito che adesso io sto cercando gli assi. Beh, in verità, oggi voglio essere al 100% onesto con voi. Ho cercato di seguire gli spostamenti anche di un'altra carta, che non è un asso, è un 9. Nello specifico il 9 di fiori. Eccolo qui. Perché il 9 di fiori è la mia carta fortunata. Infatti se contassi 9 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, la nona carta sarebbe il terzo asso. A questo punto resta soltanto il quarto e l'ultimo asso da trovare. Però se ci pensate bene è un po' come cercare un ago in un paiaio. Però facciamo così, perché effettivamente mi rendo conto che seguire tutto questo discorso sullo shuffle trading, le carte che sono a faccia in su, le carte che sono a faccia in giù, rosse nere, facciamo così. Per il quarto ed ultimo asso mi basta fare così per rendere le cose più facili da seguire. Sapete perché? Perché sono riuscito a mettere nello stesso verso tutte le carte rimanenti fatta eccezione per il quarto ed ultimo asso. Grazie a tutti.